bella a tutti ragazzi sono luca benvenuti in questo nuovo video questo non è un video che avevo programmato solamente che ieri ero in ansia per l'uscita del disco no di mischilla che è un rapper che seguo da tantissimo e ho pensato io sul canale porto le mie due passioni il rap e lo streetwear ho detto perché non portare qualcosa su supereroe le reaction però non ci ho ancora pensato di farlo ho detto vabbè lasciamo restare per adesso e ho detto cavolo per te portare un bel video sulle rime che reputo le più belle di tutto il disco e infatti eccoci qua poi vedrò in base al vostro risponso quindi like le visualizzazioni eccetera se portare altri contenuti come questo quindi farne proprio una serie oppure no e tra l'altro ragazzi stiamo arrivando ai 2000 iscritti ho in mente varie novità nuovi video una nuova serie sul rap che in italia mi sembra che non abbia portato ancora nessuno che sarà molto interessante quindi fidatevi non perdetevela like al video e iscrivetevi al canale ovviamente le rime che sentirete questo video sono soggettivamente quelle che preferisco che hanno un significato dietro sono belle eccetera qualcuna potrete essere d'accordo e qualcuna magari no magari adarsi che ne abbiate pensate magari anche altre che io non ho messo quindi inutile che mi scrivete ma non hai messo quella anzi approfittatene per appunto commentare con quelle che voi preferite o se siete d'accordo con le mie e commentate anche dicendo cosa ne pensate di questo disco così da creare un dialogo ovviamente come sempre chi mi segue anche su instagram sapeva già che questo video sarebbe uscito anche perché ieri sera ho messo questa storia su instagram dove ho fatto scrivere a quelli che mi seguono che tipologia di video fare oggi quindi ti lascio qua i sette motivi per seguirti su instagram tra cui video extra richieste di video eccetera mi raccomando seguimi su instagram e condividi questo video con i tuoi amici che ascoltano le mie schilla o soprattutto se non lo ascoltano ancora dovrebbero un po' darsi una mossa quindi falli cambiare l'idea facendogli vedere questo video quindi veniamo a noi supereroe nuovo disco di emi schilla 12 ottobre 2018 prodotto da don joe big fish potete già capire il livello che siamo 13 tracce tra cui molti featuring e so già cosa state pensando c'è anche un featuring bello grosso con tkashi e fash peg che tra l'altro la canzone è davvero davvero figa la mia canzone preferita di tutto il disco è mille strade senza alcuna ombra di dubbio è davvero una figata con la canzone davvero bella bella poi le altre sul pod diciamo non so bene ancora adesso ma penso che metterei adios con gue pequeno che c'è un botto nonostante non sia profonda come canzone però la canzone con i controcazzi ed è anche molto simpatica poi le altre a me mi piacciono molto anche le altre però ancora una scala ufficiale non la so bene fare quella che mi piace di meno preparatevi qua che so che sarà un'opinione assolutamente impopolare non che non mi piace perché non ce n'è neanche una che schifo mi piacciono tutte ma quella che mi piace un po di meno è cocaina con capo plazza adesso so già che tutti i bambini che sentono una base trap e c'è scritto capo plazza allora la canzone è assurda no sinceramente non mi fa impazzire è carina come canzone ma assolutamente non è a livello delle altre è giusto quella canzone lì da ascoltarsi così e boh quindi mi raccomando nel commento scrivi anche le tue preferite e quella che invece ti piace di meno quindi direi che prima di tornare a pomparti il nuovo disco di mischilla che sia su spotify che su se lo tunes quindi mi raccomando supporta l'artista devo vedere le rime più belle prima dei soldi e la gloria ho fatto ogni tipo di cosa canzone di apertura del disco parte subito con una rima che a me piace un sacco quanti soldati partiti con me in questa guerra di piero ne ho salvati molti però ho perso il conto di quelli che ho lasciato indietro la guerra di piero andando a scuola dovreste comunque conoscere una canzone di de andrea che si riferisce alla guerra e qua appunto e mischilla si collega con dei soldati quindi possono essere i suoi amici come era ad esempio igor che chi conosce le vecchie canzoni mischilla sa chi è che sono partiti in questa avventura del rap di mischilla e che ha salvato lui stesso con la sua musica facendo successo dalla merda in cui magari erano all'inizio prima che arrivasse la musica e appunto dice che ne ha salvati molti ma moltissimi ne ha lasciati indietro non è riuscito a salvarli quindi questa è un'autocritica che però può anche collegarsi col titolo del disco supereroa perché appunto ha salvato delle persone e poi sempre in questa canzone dice che dagli amici fidati mi protegga dio ai miei nemici ci penserò io quindi qua dice che i suoi nemici li affronterà perché sa chi sono eccetera e invece dagli amici che lo tradiranno ci deve pensare dio perché mischilla è impegnato contro i suoi nemici singolo uscito qualche giorno fa quindi qualcuno di voi compreso me lo sanno già memoria e in un pezzo dice gli amici non sono più molti quelli che stanno ancora in piedi era meglio fossero morti mi resta poco e niente ed un sacco di soldi almeno sono pieno di jordan e tu di zanotti si l'ho messa anche per il fatto delle scape sono stato un po influenzato col successo gli amici non sono più tanti sono rimasti giusto pochi perché con il successo si cambia si cambia anche città lavoro eccetera quelli che stanno ancora in piedi era meglio fossero morti comunque ragazzi ho preso i testi da genius se c'è qualche errore nel testo pazienza comunque il disco uscito oggi il senso in ogni caso si capisce ma poi comunque dovrebbero essere corretti stavo dicendo quelli che stanno ancora in piedi era meglio fossero morti qua può essere interpretato in vari modi e magari quelli che stanno ancora in piedi fanno una vita di merda e quindi era meglio fossero morti oppure quelli che stanno ancora in piedi non rispettano più i mischilla gli danno conto e quindi è meglio fossero morti però secondo me è più il primo senso che magari per via della droga per via di una vitaccia sarebbe stato meglio fossero morti mi resta poco e niente di un sacco di soldi quindi concretamente ok soldi quindi può comprarsi il rolex scarpe eccetera ma di astratto quindi di amore amicizia gli resta davvero poco a meno appunto sono pieno di jordan e tu di zanotti quindi concretamente qua fa l'esempio con le scarpe lui di jordan e penso alla tipa di zanotti quindi su quello a posto una canzone bella tosta questa qua donald trump e infatti anche le rime sono tosta e tosta e qua dice una verità assoluta in italia se spacchi fai schifo se fai schifo spacchi e riempi uno stadio ci credo che sono frustrato se non trovo spazio per colpa dei suoi settantenne del c***o che ascolta i miei pezzi e nemmeno comprende il linguaggio e quindi qua dice che in italia chi fa schifo spacca come disse anche in un'intervista pochi mesi fa che in italia più fai schifo più vi riconosciuto vi faccio un esempio young signorino perché è diventato famoso tutti lo ascoltavano oddio che schifo ma cosa dice una canzone e tutto intanto è diventato famoso ai soldi ed è conosciuto questo ovviamente è un esempio ho detto young signorino perché è l'esempio più classico di questo momento non dico che faccia schifo e non dico neanche che emi schilla ce l'abbia con young signorino anche perché sono amici sinceramente non è un rapper che ascolto però comunque ha il suo personaggio che è molto molto particolare e poi la prima volta ho sentito riempi uno stadio chi ha riempito uno stadio poco tempo fa? Fedez? ho detto che non può essere un dissing a Fedez i due rapper sono amici di vecchia data però sinceramente recentemente non ci sono state paparazzate insieme foto Instagram, tag, cacchierate insieme cioè nulla di nulla quindi non so in che rapporti siano rimasti un dissing a Fedez così sarebbe davvero pesante però vi dico non si sa mai e poi le rime sul settantenne appunto dice che ad esempio quelli che stanno in radio sono tutti vecchi che devono decidere cosa far passare e non passano le sue canzoni perché non le capiscono perché c'è del ragionamento dietro da fare che loro non sanno fare perché sono abituati ad altri generi dove basta che ascolti la canzone è carina ok dicono attento alle cose che dici perché ti ascoltano pure i minori verso noi rapper accuse infelici come se fossimo noi genitori qua ve la faccio breve il rapper che dice che si fuma le canne per molti fa sì che il ragazzo un dicenne si fumi le canne per diventare figo come lui e da una parte questo è anche vero ma il mischiare dice guarda che io non sono genitore se i genitori educano bene il proprio figlio può essere piccolo e stupido quanto volete ma non è che lo fa perché lo faccio io questo ragazzi io posso essere anche un esempio lampante non è perché quando ascoltavo i mischilla che diceva che si faceva dmd eccetera io mi facevo dmd no è stato pulitissimo anche se ascoltavo i mischilla quindi ragazzi tranquilli in testa un piano sul cazzo due bimbe ai piedi delle guci così tare che sembrano sfide featuring bello bello tosto me lo aspettavo di brutto anche perché si commentavano sempre le foto ormai quello è un chiaro segno su Instagram sembra stupido da dire ma è un chiaro segno la canzone questa qua è davvero bella bella e Vegas Jones in un pezzo dice Claudio che se sei uno che non vince più ti viene spontaneo essere uno che commenta quindi dice se uno ha fallito inizia a commentare le cose degli altri perché non ha più niente da fare non può fare altro semplice e diretta canzoni molto più impegnative e più profonda abbiamo una quartina bella bella questa vita è dura ma non lo sai ancora cammini scalza sopra gli scorpioni creatura pura ingenua per natura tu che credi ancora che vincano i buoni quindi qua fa capire che questa ragazza ingenua più piccola pensa che la vita sia tutta rosa e fiori cammini scalza sopra gli scorpioni vuol dire che lei sta sempre tranquilla anche quando in realtà c'è magari una trappola dovrebbe stare più attenta a certe cose dove lei pensa che non ci sia magari corruzione o cose trappole eccetera lei sta sempre tranquilla quando in realtà non dovrebbe esserlo tu che credi ancora che vincano i buoni quindi credi che l'amore vinca su tutto sia tutto come nei film che vada a finire bene in realtà la vita è ben diversa e dice Bischilla questa raga è una canzone che mi piace tantissimo comunque qua non davvero hanno distrutto tutto infatti ragazzi qua ho messo mezza canzone delle rive più belle perché mi piacciono un sacco e mi schilla lei sotto che urla ti adoro c'è il cuore di burro ma il culo è di marmo ho i battiti a mille che più che scopasse ma che ci faccia cardio in testa ci mostri da un po' tipo il bimbo di Stranger Things serie originale Netflix molto bella che però sono poco più della metà della prima stagione quindi non so ancora a quale bambino si riferisca sia a 11 o ad altro che appunto ha dei poteri non spoilerate nei commenti basta in mezzo a sta scena di bambule tinte che fra più che rapper mi sembrano wings e ormai penso che abbiate capito c'è sta moda di farsi il capellino a altro colore dread e tutte queste cose qua più che rapper sembrano wings anche il concetto affermato da Bassi Maestro in poco flow dove sfotte tutti i rapper li considera dei poni e questo comunque ragazzi è abbastanza vero non c'è più un rapper tosto che per carità può anche stancare un po' però chilla dice che ormai i rapper sembrano più donne che uomini più bambini cartoni animati e qua ragazzi la seconda strofa l'ho messa praticamente tutta ne ho fatti 28 quest'anno 10 anni sul pezzo e sono ancora fresco la mettono in c***a sta scena perché gli altri invecchiano mentre io cresco quindi mentre gli altri rapper invecchiano quindi non sanno più cosa dire non sanno farsi spazio tra i giovani non sanno modernizzarsi e mi schilla continua a spaccare lui cresce non invecchia fa come il video diventa più buono in chiama senti come spiego le rime quella scema che ti fa esaltare ogni giorno mi scrive su direct questo fa il negro ma è nato a barletta fra il rap italiano e una felpa di pyrex quindi qua fa il gioco sia che magari i rapper fanno tutti i duri che vengono dalla strada e poi nascono in una città comunque tranquilla e in più nascono a barletta che ormai è la città simbolo del fake appunto collegarsi gli argomenti che tratto sul canale iscrivetevi e andate a vedere anche i vari video dato che appunto la barletta viene prodotto su prima Italia quindi fake pyrex barletta tutte queste merdate qua quindi cosa fai l'americano se sei nato nella città dei fake può essere intesa così come in una città anche normale il film universale rappare oramai me la gioco con gli americani perché gli italiani rimangono a casa rispeccano la nazionale e i mondiali qua fa sia la frecciatina nazionale e sia dice che gli rapper italiani sono scarsi l'ormai si dà da fare con gli americani stasera o l'ennesimo ho gratto il furgone coi major sotto l'hotel ignoranti da schifo ma al passo col trend Gucci gang Gucci gang Gucci gang Gucci gang con queste due rime finali penso che abbiamo andato a casa un po' tutto il popolo italiano la gente musicalmente sempre più ignorante ascolta canzoni senza senso perché vanno di moda come Gucci gang Gucci gang e non va invece a ascoltarsi canzoni che invece meritano ragionamento e sono molto più belle e poi arriva Guè che è tranquillissimo la tocca piano e manda un po' a cagare tutta Italia cioè questa ragazza è la rima che mi ha fatto più ridere di tutto il disco non riesco neanche a leggerla uscire il cazzo nelle storie non è stato un dramma letteralmente pesce in faccia a tutta Italia ma che cazzo ha tirato fuori questa è bellissima raga è bellissima non c'è neanche bisogno di spiegare una storia Instagram di quella dove si se letteralmente pesce in faccia a tutta Italia perché tutti gli hanno visto il cazzo il fatto è che è piaciuto a te più che alla tua ragazza perché in effetti lui diceva ma scusa ma tu sei maschio viene a vedermi col cazzo di fuori e in effetti poi vabbè dice ce l'ha sempre in moca come la vazza quella ha fatto la rima figa per chiuderla no non mi chiedere che gusto c'è lettere per Dio finite sul mio cerco come titolo di disco supereroe abbiamo delle belle belle rime anche qua non c'è alcun merito supereroe non verso la fine da moto c'è un mare all'interno così che tutti i miei problemi ci affoghino dentro mi schilla non mostra quando è debole non mostra quando piange eccetera ma comunque i suoi problemi e si ritiene dentro ho imparato a volare ma in questo gioco più si sale quindi cosa fa più sale in classifica più si va a spaccare i lokaï più si sale featuring importanti eccetera più quando si scende quindi più quando inizia a diminuire le 20 più quando ti avvicina il fallimento più quando inizia a sentirti che devi smettere più fa male perché per dirti passare da un 5 stelle pronto a fare un concerto che ne so a Londra tutte queste cose qua a essere a casa tua solo lì per terra è brutto fa malissimo altre rime che mi sono piaciute sempre di questa canzone essere amati anche dopo il successo a quelli come me no non è mai stato concesso e non so se chiamarlo paradosso o compromesso il fatto che ho salvato tutti tranne che me stesso bellissima qua anche come la chiude lui dopo il successo non è più stato amato cioè gli haters ci sono comunque forse intende anche l'amore personale anche se ormai comunque ha un figlio e tutto quindi deduco di no non so se chiamarlo paradosso o compromesso il fatto che sono stato tutti tranne che me stesso quindi ritorniamo al discorso di salvare quella sua musica ma lui da solo non si è riuscito a salvare non si può salvare gli altri continuano comunque ad odiarlo ovviamente non tutti ci mancherebbe dimmi quale faccia della luna ti appartiene quella sempre buia o quella che si vede bene penultima track e se stiamo male chi se ne frega di chi è la ragione il buio è tutto uguale non cambia mai colore a cosa serve adesso circondarsi di persone che anestetizzino le ore ma non il dolore pure il raffreddore fa anche rima quando due litigano chi se ne frega dopo un po' chi è la ragione alla fine tutti e due stanno male il buio è tutto uguale non cambia colore quindi facciamo pace a cosa serve adesso circondarsi di persone che anestetizzino le ore ma non il dolore quindi ad esempio una coppia che si lascia tende a non stare da solo il tipo per dirlo la tipa stando con altre persone ti passa il tempo ci pensi meno eccetera sennò stai a casa a piangere ma in ogni caso anestetizzi le ore ma non il dolore stai comunque male solo che ti fai passare le ore qua raga fermi tutti fermi tutti siamo a mille strade l'ultima tratta la traccia più bella secondo me raga ma davvero è troppo figa non potete essere contrari ok che ho fatto video sulle rime più belle raga ma come su tutta la canzone quasi a mente come su tutta la canzone non ha cioè è assurda raga ho messo anche il ritornello tra l'altro tutta tutta bella è questa quanti chilometri ho fatto mi sono perso per strada forse ero troppo distratto forse era quella sbagliata tutti gli amici al mio fianco adesso non so dove sono lasciato indietro dal branco o forse ero io che correvo da solo mamma ti chiedo perdono diceva fermati e non lo capivo quante sciocchezze per sentimi vivo ogni sabato sera per poco morivo non ero certo il più forte del gruppo se ho vinto è perché ero il più competitivo perché non vedevo gli ostacoli lungo la strada io vedevo solo l'arrivo poi parte il ritornello ma un'altra volta no ho visto mille inverni ho fatto mille strade correndo ad occhi chiusi dietro a quel che non ho lasciando tutti gli altri indietro sto uscendo mia madre dice resta ancora un po' e quanta gente è persa ancora lì a cercare e forse anche io la strada verso casa non la so e sono già passate mille settimane chilometri di storie in queste mille strade trofa due quanti chilometri ho fatto e quante volte ho patito a sentirmi dire che era tempo perso da chi non era nemmeno partito no non ti salverà Dio ognuno è padrone del proprio cammino sei tu che scegli la destinazione solo uno scemo si affida al destino non aspettare nessuno perché di picrizia si ammalano in tanti quanti semafori rossi prendiamo per colpa di quelli che stanno davanti fai la tua strada da solo vai fino in fondo ed arriverai primo non fare l'errore di lasciare tutto a metà per tornare all'inizio del bivio direi che raga non c'è davvero nulla da aggiungere e queste ragazzi hanno le rime più belle del nuovo disco di Mischila Supereroe ce ne sono altre non lo metto in dubbio scrivetemene nei commenti like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale streetwear e sneakers oltre che rap il nuovo essere in arrivo mi raccomando seguitemi su instagram sette motivi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video se avete consigli su altri video su instagram ogni tanto lascio fammi una domanda per scrivermele statemi bene noi ci vediamo al prossimo video quindi bella ci vediamo al prossimo video